perché lanciare sul mercato un modello sfigato ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video io sono michele oggi con l'auto elivo nano non ho parole ragazzi sono davvero super deluso da questo nuovo attesissimo drone di autel e aggiungerei anche costoso drone infatti questa versione la versione base non plus costa a partire dai 650 euro che non sono certo bruscolini perché amici sono così deluso non tanto per la potenza dei motori di cui ho parlato nel precedente video non tanto per l'overing difficoltoso non tanto per l'orizzonte inclinato tutti i problemi che spero possano essere risolti con qualche aggiornamento ma per questo gravissimo problema che state vedendo nelle foto che scorrono di cosa a cosa mi riferisco beh ovviamente alla linea dell'orizzonte che è totalmente deformata concava verso l'interno e a gobbe non so nemmeno io bene come definirla verso le parti più esterne ovviamente lo si nota maggiormente con le foto invece che con i video specialmente su una linea d'orizzonte piatta come può essere il mare ma non è un effetto ottico ragazzi basta controllare anche con photoshop o con qualche righello digitale l'orizzonte l'immagine diciamolo chiaramente è totalmente deformata questo problema da cos'è causato beh non si tratta a mio parere di un problema software ma dalla lente utilizzata che evidentemente ha qualche problema forse problemi di produzione purtroppo non è un problema che riguarda solo il mio modello ho letto su altri forum di altri utenti con l'autelivo nano riscontrare questo grave problema non presente invece o almeno molto ridotto sul modello plus e ora mi chiedo perché autel ha fatto uscire un autelivo nano base a 650 euro se a tutti questi problemi come l'orizzonte deformato come i motori meno potenti anche se sulla carta dovrebbero essere uguali a modello plasma il plus si comporta meglio con il vento perché lanciare sul mercato un modello sfigato che poi alla fine costa 150 euro in meno tipo non stiamo parlando nemmeno di cifre così esagerate l'immagine deformata può essere sì leggermente sistemata smussata in post produzione con dei programmi specifici ma l'effetto resta comunque e per chi vuole utilizzare questo drone per fini professionali o semiprofessionali è un problema gravissimo che un drone da 650 euro che parte dai 650 euro non può assolutamente permettersi per farvi capire è un po come l'effetto fisheye occhio di pesce ma in quel caso l'effetto è voluto in quanto serve a dare maggiore angolo di visuale all'immagine invece qui parliamo proprio di un difetto della lente che spero venga risolto con i prossimi modelli con le prossime sfornate di auto e di volano che al momento è anche abbastanza introvabile ma a diverse angolazioni corrispondono diversi gradi di deformazione dell'immagine invece con il dj mini e se che vedete in questa foto e che costa vi ricordo meno di 300 euro meno della metà dell'auto e di volano non c'è assolutamente nessun problema del genere car autel tu hai realizzato un drone davvero fantastico almeno sulla carta con sensori anti collisione un drone che non riscalda quasi per nulla resta sempre molto molto freddo quindi il sistema di dissipazione del calore è fantastico a differenza magari dell'absanzino mini hai montato un sensore di ottima qualità e poi mi cadi sulle cose più semplici come la lente o i motori non abbastanza potenti spero che questi siano tutti problemi fissabili risolvibili con qualche aggiornamento anche se mi sembra difficile risolvere problemi hardware con aggiornamenti software ma sperare non ci costa nulla quel che ci costa invece è spendere oltre 650 euro per un drone che al momento si comporta peggio diciamolo chiaramente di un dj mini e se che le costa meno della metà non dico che questo sia un drone da buttare assolutamente io continuerò a provarlo nei prossimi giorni perché mi piace per quanto riguarda la qualità delle foto dei video male l'effetto di deformazione è intollerabile e rovina assolutamente tutto anche in volo si comporta bene il segnale è fantastico ma se c'è un po di vento in aria state molto attenti amici quindi che dire in conclusione io al momento non me la sento di consigliarvi l'acquisto dell'auto elivo nano non ho provato l'auto elivo nano plus alcuni dicono che è migliore sotto questi aspetti questi problemi che vi ho elencato ma se dovete spendere 650 euro mettete qualcosina in più e vi prendete il layer 2 della dj in versione combo ormai il prezzo è quello lo so che questo pesa meno di 250 grammi ma ci sono dei problemi attualmente molto molto gravi che spero vengano risolti il prima possibile ma detto questa mi ce lo vuole sapere voi cosa ne pensate trovate questi problemi di poco conto o pensate che possono essere risolti parliamone insieme qui sotto nei commenti ditemi la vostra vi aspetto come sempre se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like per supportarmi e iscrivetevi al canale e ora vi saluto un po deluso un po amareggiato e vi do appuntamento al prossimo video sempre che voi vogliate sempre qui su ad access to tech alla prossima ciao ragazzi ciao